In ogni telefono ragazzi andate a mettere una sim, giusto? Quindi voi avete un operatore mobile e quindi io adesso nei commenti voglio subito sapere qual è il vostro operatore, la vostra offerta e quanto spendete tutti i mesi. Io ho tre sim, due sim di team, una e-sim e una sim normale. Una sim normale è nello smartphone di lavoro ed ho una promozione che costa 9,99€ è tutto illimitato con 5G, questo grazie alla team, quindi grazie al contratto di casa posso abilitare la team unica, l'altra sim è e-sim, posso cambiare tutti gli smartphone che voglio quindi io non ho un vincolo a due, tre, cinque smartphone e anche lì team unica quindi minuti limitati, giga limitati, 5G, 9,99€ per essere team niente male però dovete avere la promo a casa, quindi dovete avere la fibra di team. Tra l'altro questa promozione me la attivò Marco Campanella Bottega Tech che ormai non ha più negozio, quindi è un bel ricordo che ho. La terza sim invece da un anno e mezzo forse è di Uno Mobile e voi mi direte, Guertz, Uno Mobile? Sì, Uno Mobile è un operatore secondo me molto interessante, virtuale quindi si appoggia su rete Vodafone che fa delle prove molto interessanti fino a qualche giorno fa aveva un piccolo gap rispetto agli altri ovvero di avere la connessione limitata a 60 MB massimo, che poi in realtà erano 30-35, con rete Vodafone però senza 5G, quindi insomma andava bene perché io non mi sono mai lamentato di Uno Mobile rete Vodafone poi quindi ottimo segnale, ottima ricezione, ottima conversazione telefonica però chiaramente ha delle mancanze, non ha il volte e soprattutto non ha 5G o meglio, non aveva il 5G. In questa riprova ragazzi adesso andremo a Firenze, abbiamo abilitato il 5G vi farò vedere come fare, costa 1€ al mese, quindi comunque ci si può stare vi farò vedere la mia promozione, vi farò vedere le altre promozioni e poi andremo in giro a fare qualche speed test andremo a vedere rispetto a Team se funziona bene oppure ancora un passo indietro e poi conclusioni finali come sempre ragazzi mettetevi comodi, se questo video vi piace lasciate un mi piace se questo video è di vostro gradimento lasciatemi un like condividetelo e iscrivetevi al nostro canale YouTube Prima di tutto dobbiamo fare colazione e quindi speed test a volo a Regnano sull'Arno ragazzi quindi niente in Firenze, prende il 5G, attenzione, vediamo un po' questa Uno Mobile, tanto oggi tira un vento incredibile quindi non so l'audio di questo video come sarà perché non ho il microfono comunque siamo quasi a 300 in download, cioè non male eh considerate, vi ripeto, non siamo a Milano, Roma eccetera siamo a Regnano sull'Arno, tra l'altro con Pixel 7a che sarà il protagonista di una futura riprova e addirittura si superano i 100 in download quindi direi primo speed test promosso ragazzi qui siamo al giorno dopo perché aeree non sono potuto andare in centro a Firenze perché diluviava, oggi diluvia, ci andremo domani però abbiamo Team sulla sinistra, Uno Mobile sulla destra facciamo uno speed test, arreggiamo l'Honor perché sennò vola eccoli qua, vedete come Team sempre in 5G con segnale pieno vada molto molto più piano rispetto a Uno Mobile in download siamo a quasi un terzo 81, 2.51 l'upload siamo veramente lì almeno abbiamo visto anche una differenza tra Uno Mobile e Team qua a Rignano in una zona abbastanza coperta infatti il segnale è praticamente quasi pieno su Pixel e anche quasi pieno su Honor V2 che vi ricorda Team intanto ragazzi vi faccio vedere la mia promozione che ho con Uno Mobile eccolo qua, come vedete sono 7,99€ al mese escluso il 5G, 120GB di appunto internet 7, anzi 8.45GB nell'Unione Europea non è male secondo me minuti limitati verso tutti 50 SMS e 50 SMS anche nell'Unione Europea 5G il servizio attivo che come vi ho detto comunque si va a sommare 7,99€ quindi sono 8,99€ di servizio totale chiaramente poi si può andare a cambiare offerta qualora voleste vedere un pochino le nuove offerte vedete 220GB, 9,99€ ci sono tantissime offerte ragazzi con portabilità, senza portabilità guardate qua ce n'è veramente per tutti i gusti quindi sta un pochino voi a scegliere io un annetto fa feci questa qui da 7,99€ che comunque vi devo dire la verità come smartphone di backup o comunque come alternativa a Team mi trovo da Dio volevo anche ricordarvi ragazzi come abilitare il 5G quindi se avete già una SIM 1 Mobile all'interno di extra servizi troverete la voce 1 Mobile 5G in questo caso non c'è perché l'ho già attivato certo che qui si passa dalla pioggia a 7, 8, 9, 10 gradi alla primavera da stare senza giubbotto 24 gradi ragazzi oggi a Firenze quindi siamo 3 giorni dopo l'inizio di questo video infatti adesso non c'ho più il pixel in tasca ma ho S23 Ultra perché ieri è uscito il nuovo update 3GB e passa di aggiornamento con patch di sicurezza di marzo ma nello specifico One UI 6.1 basato sulla nuova Galaxy AI però arriverà una riprova di questo smartphone vedete ce l'ho in tasca e sto appunto iniziando a scattare a fare, a pensare e a provare lo smartphone almeno iniziate anche a entrare in quella che è la programmazione nei nostri video quindi ho inserito la sim di Uno Mobile e di Team all'interno di S23 Ultra siamo in centro siamo a Porta San Nicolò eccola qua a Firenze e quindi adesso andiamo a fare qualche speed test con Uno Mobile 5G attivo tra l'altro ragazzi è fighissima la gestione del dual sim di Samsung vedete dovete tirar giù la tendina e poi schiacciare dove volete se volete ricevere effettuare chiamate su sim 1 messaggi e connessione dati voi scegliete quello che vi pare vi basta a tappare e andate a fare lo switch partiamo subito con uno speed test a Piazzale Michelangelo vediamo un po' la connessione dati come va di Uno Mobile vedete già più prestante rispetto a Ringano sull'Arno qui siamo in quasi centro Firenze poi ci sposteremo anche in centro 342 in download non male upload un pochino inferiore rispetto a casa mia anzi molto inferiore rispetto a casa mia siamo intorno ai 20 più o meno però comunque sia per un operatore virtuale tra virgolette low cost direi niente male switch rapido sempre stessa zona adesso abbiamo team beh come vedete porca miseria c'è un abisso mamma mia download non c'è partita l'upload più o meno siamo lì ma il download prende male cioè porca miseria vedete alle volte eh eh ma questo è un test serve proprio per questo qui ragazzi siamo in pieno centro infatti siamo a ponte vecchio ma niente 5g ma facciamo comunque uno speed test per essere un 4g plus devo dire tanta roba eh guardate qua niente male allora più centro di così siamo a palazzo vecchio speed test che sta andando anche qua non abbiamo il 5g ma ci fermiamo il 4g plus e qua ragazzi fa molta fatica ma cioè vedete anche voi Firenze oggi è veramente piena 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 di turisti 10 mega download 10 in download e 16 più o meno in upload andiamo a vedere al Duomo eh anche qua ragazzi super centro siamo al Duomo prende il 5g qui molto meglio rispetto a piazza signoria qua abbiamo addirittura un 104 in download upload è abbastanza bassino ma è normale considerate la quantità di persone che ci sono oggi a Firenze in Duomo eccolo qua 104 in download 10.11 in upload beh allora ragazzi avete visto la prova con uno mobile uno dei miei operatori oramai da circa 15 16 mesi l'ho testato in molte zone d'Italia ma ovviamente dovete un po' guardare anche le vostre zone coperture eccetera eccetera è su base Vodafone quindi secondo me avrete pochi problemi quello che vi consiglio io è magari prima di fare una sim e dopo fare portabilità gli manca un'offerta flat quindi limitato anche lato dati ma ragazzi immaginatevi una roba simile chi farebbe più Vodafone quindi andrebbe anche un pochino contro l'operatore principale con l'arrivo del 5g ho voluto fare questa riprova fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate secondo me uno degli operatori virtuali migliori che ho potuto testare sulla mia base quindi sulla mia rete e sulle mie zone vi attendo come sempre nei commenti vi auguro una buona Pasqua ragazzuoli noi ci sentiremo lunedì per Pasquetta con una prova molto interessante non vi voglio spoilerare niente e anche per quest'oggi dal Guerza raga è tutto ci vediamo prossimamente per un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti